Avviare il dialogo tra e con i docenti universitari per promuovere nuove responsabilità di fronte al cambiamento culturale e sociale del Paese che rappresenta una sfida alla cultura e all'istituzione universitaria, favorire nei docenti cattolici la consapevolezza ecclesiale del loro servizio creando reti e collegamenti con la pastorale universitaria delle chiese particolari e far partire il dialogo tra docenti di facoltà universitarie statali e teologiche presenti nel Triveneto. Sono questi gli obiettivi del seminario di studio voluto dalla CET, conferenza episcopale Triveneta che si interroga sul ruolo delle università oggi in un mondo che cambia veloce, che richiede alle istituzioni di adeguarsi altrettanto velocemente soprattutto per non perdere il dialogo con le nuove generazioni. Ognuno nella propria competenza, ognuno nel proprio ambito e il docente in particolare ha un ruolo determinante si pone in dialogo e ponendosi in dialogo fa in modo che anche le discipline siano uno strumento per la ricerca della verità. Nel rapporto tra ricerca e insegnamento la centralità viene data comunque alla persona soprattutto durante gli anni della sua formazione. Ecco, noi riteniamo che non si deve mai dimenticare la persona e quindi sia la persona dell'educente ma in particolare la persona dello studente chiamato ad assumersi le responsabilità, le competenze per la società di oggi. Ecco, e di fronte alle varie provocazioni economiche, tecnico-scientifiche, si rischia appunto di dimenticare la persona e quindi tenteremo di creare un dialogo fecondo affinché coloro che operano nell'ambito universitario, i docenti in particolare possano svolgere il loro ruolo per una formazione integrale della persona dello studente.